ciao amiche vi ricordate quest'idea qui che vi ho proposto qualche tempo fa con il tessuto di sughero di giola tessuti delle meraviglie peraltro è comodissimo bellissimo secondo me è un'idea perfetta adesso per il natale però in molte mi avete chiesto di farlo eventualmente insieme il pelle oppure in tessuto allora oggi vi voglio dare proprio qualche consiglio in più per cambiare il materiale con il sughero io non l'ho doppiato ho fatto queste due semplici cuciture e anche se è un materiale prezioso vi posso garantire che anche molto molto resistente questo sughero qui l'ho preso sul sito di giola con il codice sconto quindi vi lascio poi l'indicazione qui sotto e devo dire che è fantastico e forse la versione più semplice da fare quindi sono i pensierini che si fanno veramente in 5 minuti con pochissimo materiale se invece volete realizzarlo ad esempio con della similpelle come ho fatto per questo non dovrò doppiare la similpelle stessa poi la similpelle come vedete c'è di diversi tessuti questa è della bibi kraft anche per questo vi lascio tutte le indicazioni nella casella delle informazioni quindi ritaglio come ho fatto per questo tutorial qui utilizzando il cartamodello gratuito che vi lascio nella casella delle informazioni e poi vediamo come cucina la cucitura quindi blocco in questo modo insieme utilizzate le pinzette per non forare la similpelle e poi utilizzate un filo in tinta un filo normale per la cucitura e vi consiglio di utilizzare il piedino doppio trasporto in questo caso con un ago normalissimo tipo 180 universale si riesce a fare tranquillamente la cucitura se la vostra macchina non ha il doppio trasporto non avete il piedino specifico allora potete applicare sul piedino normale quello che utilizzate per il punto dritto il nastro carta questo qui quello dei carrozzieri fra virgolette che utilizzano anche pittori si mette così in basso ecco si deve furare qui dove passa l'ago si deve togliere questo qui dove deve passare l'ago oppure l'ulteriore arte alternativa è quella di utilizzare un piedino specifico in teflon lago potete tranquillamente utilizzare un ago universale l'altro consiglio che vi voglio dare è quello di iniziare la cucitura a qualche ecco almeno qualche millimetro dall'inizio e fare un punto di almeno 3,5 mm di lunghezza punto dritto bloccato però non sul bordo perché andate a rovinare la similpelle ma partite diciamo a pochi millimetri dall'inizio per cucire la pelle metto adesso questo piedino qua quindi inizio la cucitura blocco il punto come vedete il trasporto è ottimo quindi riesco a gestire per bene la cucitura con un piedino normalissimo e lo faccio vedere anche su questa parte qui che diciamo una parte libera qui già avevo cucito eh facciamo subito questa cucitura come vedete accompagnate un pochino però questa cucitura si fa veramente guardate il risultato è una cucitura comunque regolare ecco qua se metto questo piedino quindi è semplicemente di teflon vi ricordo che il lago che sto utilizzando è normalissimo vedete anche con questo piedino la cucitura si fa senza difficoltà ovviamente andate lentamente quindi cucitura regolare ben fatta oppure se avete questo senza rotellina vediamo come si comporta vediamo questa cucitura se riusciamo a farla come cucitura regolare anche questa riusciamo a farla bene eccolo qua guardate sia su un lato che sull'altro in questo caso scelgo un tessuto di cotone riporto sul retro il cartamodello lascio un centimetro tutto attorno perché avrò bisogno di un margine di cucitura lo faccio su un altro pezzo uguale a questo e poi lo dovrò doppiare con un tessuto di cotone anche in questo caso da mettere all'interno amiche tutti questi tessuti che sto utilizzando sia per l'interno che per l'esterno sono tessuti di cotone e li trovate sul sito di gelà con il codice sconto e trovate le informazioni tutte qui nella casella delle informazioni sotto al video per dare un po di struttura utilizzerò del panno lenci molto sottile qui sottile quindi tipo di un millimetro e mezzo 2 è abbastanza morbido oppure altri tipi di imbottitura però comunque sottili e quindi è fisso insieme così e così e quindi procedo con la cucitura qui in basso proprio nella zona centrale marco un'apertura di circa 4 cm qui dove praticamente è diritto quindi faccio una cucitura su tutto questo contorno e su questo contorno qui ho realizzato la cucitura bloccandola per bene qui ho seguito proprio tutto quanto il contorno e ho ribloccato di nuovo le ho fatte allo stesso modo cosa importante utilizzato una lunghezza del punto pari a 3 mm e mi consente di essere abbastanza precisa elimino quindi questo eccesso in questo modo qui faccio attenzione lascio questo lascio un centimetro e anche di più perché così riuscirò a sistemarlo per bene dopo e la parte di imbottitura o comunque di panno lenci come nel mio caso la elimino poi così sul retro fino alla cucitura utilizzate delle forbicine come sto facendo io ecco qua ed eliminatela in questa maniera eliminato tutto questo eccesso mi raccomando fate attenzione qui su questa parte che non è cucita a riportare proprio il panno lenci in orizzontale per unire questi due punti quindi tolti gli eccessi qui in alto anche qui in basso li ho tolti posso girare sul dritto quindi apro i due tessuti così e giro sul dritto poi io ho questo strumento ma potete usare qualsiasi oggetto non particolarmente appuntito riporto tutto per bene così e soprattutto agli angoli qua in basso qua qua è partita la cucitura vabbè qua il punto ma bloccato per bene quindi mi raccomando voi bloccate per bene ecco qua qui avevo bloccato per bene come vedete si è si è fatta la perfezione qui si è scuscito perché non avevo bloccato per bene il punto all'interno allora queste due parti sono pronte adesso bisogna chiudere qui in basso e si può fare con un punto nascosto parto da sinistra proprio dall'interno blocco il punto e poi procedo su questo lato entrambi uscendo e sul lato opposto la faccio la stessa operazione entro ed esco così e continuo con questi punti in questo modo fino a coprire tutta questa lunghezza qua ecco qua guardate io tiro e poi lascio in questo modo guardate è perfetto quindi blocco il punto lo blocco soprattutto qui sul tessuto all'interno questa volta senza tirare giro così e poi guardate entro all'interno di questo tessuto ed esco dopo qualche centimetro ecco qua questa è la finitura in basso qui prima di chiudere vado a ribattere giro di nuovo sul rovescio ribatto per bene perché altrimenti insomma posso avere qualche problema e rifaccio la stessa operazione allora per fare questa cucitura un filo più o meno simile a questo che c'è di qua questo in realtà è molto più chiaro quindi però prendetelo più simile possibile a questo unisco la base così faccio coincidere questa parte qui e anche di qua e poi faccio attenzione ecco vedete importante che sia abbastanza simile a quest'altro e quindi inizio la cucitura inizio una cucitura qualche millimetro più in alto e devo bloccare il punto quindi fermo per bene più di una volta guardate io sto prendendo il tessuto che c'è all'interno vedete per qualche millimetro poi torno indietro così e poi come se volessi fermare il punto vado verso l'alto farò un punto semplicissimo quindi prendendo i tessuti su un lato e sull'altro vedete proprio la parte interna sto prendendo per qualche millimetro quelli che riesco a vedere eccolo qua quindi niente di più facile mi muovo in questo modo ovviamente punti molto vicini per evitare ecco qua quindi rimango vedete vicinissimo al bordo non vado verso non mi sposto in questa direzione ci vuole più a dirlo che a farlo dovete pizzicare il tessuto esterno ok su quest'altro lato amiche sto facendo con un filo in tinta con la parte che rimarrà all'esterno ed un punto un pochino più fitto fra virgolette vedete molto più vicino rispetto a questo qui e vediamo poi l'effetto finale questo per dirvi che i consigli che vi do insomma cercate di seguirli o comunque valutate ok ecco fate dei punti molto vicini con un filo che rimanga in tinta con la parte esterna allora ho chiuso tutta questa parte e questa qui a mano ma come avete visto è veramente facile e riporto quindi sul dritto mi raccomando bloccate bene all'inizio alla fine la cucitura lo ripeto perché è veramente importante adesso vediamo come si filo in tinta è praticamente perfetta su questa parte qua vedete si vede il puntino ma comunque è secondo me giusta così e poi pure quest'altro vediamo se riesco ad inserire questa sfera qui di legno di legno oppure lo potete prendere il fatto di altri ovviamente di altri materiali è il caso mai che si abbinano comunque al tipo di di tessuto ecco qui questa entra vediamo se riesco a farlo con questo eccola ecco qua perfetto mi piace questo effetto qui ora mi assicuro che le chiavi rimangano per bene fuori e faccio qua in alto un bel nodo ecco lo regolo così perfetto ecco qua quindi questo bene amiche spero di aver risposto alle amiche che mi chiedevano un'alternativa al tessuto di sughero con il tessuto normale lo dovete doppiare e vi consiglio di fare la cucitura a mano che ho fatto io che come avete visto è comunque molto semplice potete tuttavia sempre sul rovescio fare una cucitura con la macchina per cucire in quel caso però rispetto a questo cartamodello vi consiglio di aumentare circa mezzo centimetro sui due lati proprio per dare poi questo margine di cucitura e avere delle dimensioni molto simili a queste qui potete ecco mettere questo questo qui per decorare e per impedire al cordoncino di passare all'interno e poi questa versione qui che praticamente identica a questa solo spero di avervi dato i consigli giusti per le cuciture perché ricordatevi che quando lavorate la simil pelle è necessario fare delle cuciture regolari precise e quant'altro qui l'idea in più potrebbe essere quella di fare solo su questi lati con le forbici a zig zag vi consiglio di farlo alla fine come sto facendo io che se la fate sui due pezzi prima di unirli poi zig zag non considerano alla perfezione ecco potrebbe essere una piccola alternativa a questa versione poi anche in questo caso potete mettere il bottoncino questo è della bibri craft questo questa simil pelle qui è quella che abbiamo spacchettato insieme l'altro giorno questi tessuti qua invece li trovate sul sito di giola con codice sconto tutti con sono con i codici sconti ve lo voglio ricordare perché eventualmente ne potete approfittare ma questi materiali si trovano molto facilmente in qualsiasi negozio di tessuti amiche io vi mando un grosso abbraccio vi aspetto al prossimo tutorial ciao ciao Grazie a tutti.